un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo ecco il percorso che porta i pellegrini che porta tutti voi nella cella numero uno beh oggi vogliamo fare un regalo a tutti voi entrare entrare in questa cella ecco la cella di padre pio da pietrelcina in realtà erano due stanze e questo luogo un tempo era un'aula scolastica è stata anche una piccola cappella e dal 1943 i frati ritenero opportuno di mettere a disposizione questa stanza ecco qui siamo accanto alla poltrona dove nella notte tra il 22 e il 23 settembre padre pio morì e qui tutte le indicazioni lasciate dai frati spiegando oggetto per oggetto il calendario del mese di settembre del 68 ecco la temperatura e qui tante cose il dal cingolo a diverse diversi oggetti personali di padre pio a quest'altro lato troviamo una serie di libretti che servivano a san pio per ecco meditare vediamo alcuni scritti anche di alcuni suoi figli spirituali come don giuseppe tomaselli ed altri e altre piccole preghiere qui poi una serie di fotografie quindi possiamo immaginare queste belle immagini chissà forse proprio questo il quadretto che lui fece prendere da casa maria pail al papà di padre pio e fece portare qui nella cella numero uno il papà all'epoca si stava quasi per inquietare ma poi sape che fu il figlio a far prendere questo quadretto e metterlo nella sua stanza la madonna della libera la stato di san francesco a pietrelcina dinanzi alla chiesa maria pail vediamo un panorama di pietrelcina che poteva ammirare sempre il papa paolo sesto all'epoca della sua morte quindi san michele vediamo lupi e sanguinetti grandi collaboratori per la casa sollievo della sofferenza ancora santa maria delle grazie il cuore di gesù santa bernadette con la madonna di lourdes e i genitori a quei genitori e poi c'è un cristo sofferente tante belle immagini che lui aveva qui nella sua stanza al momento della sua morte come pure ecco questa visuale accanto al suo letto mi sento un po privilegiato in questo momento essere qui però voglio raccontarvi anche quello che lui vedeva ogni mattina e ogni sera prima di addormentarsi si tratta della madonna della purità e poi la sua finestra questa finestra dove è segnata con un segno di croce la sera si illumina per indicare dal sagrato che questa è la stanza di padre pio e da qui padre pio si affacciava e salutava tutti coloro che giungevano era diventato un momento momento significativo importante per tanti e da questo luogo oggi vogliamo affidare a padre pio tutte le vostre preghiere tutte le vostre ansie tutti i vostri timori tutti i vostri guai tutte le vostre sofferenze e soprattutto dire anche grazie grazie a padre pio perché durante la nostra vita ci sei sempre stato accanto